Ciao a tutti da Vittorio, secondo Gianluca Di Marzio è fatta, la Lazio ha preso il nuovo difensore centrale. Si tratta di Samuel Gigo del Marsiglia, anzi fuori rosa del Marsiglia che arriva a Roma, accordo definito, addirittura c'è già stato lo scambio dei documenti fra Lazio e Marsiglia, il giocatore arriva a titolo definitivo per 3 milioni di euro e firmerà un contratto triennale con la Lazio. Gigo che a breve compierà 31 anni quindi sbarcherà a Roma verosimilmente domani per fare le visite mediche e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Un'operazione che vi ho detto non mi fa impazzire, un'operazione che mi lascia perplesso non solo per il valore del giocatore ma anche perché Fabiani ci aveva promesso nessun giocatore over 30, Gigo ha 31 anni e quindi si è già smentito da solo il direttore sportivo della Lazio. Operazione veloce, operazione dettata evidentemente dal fatto che Casale nelle prime due giornate di campionato non aveva vinto e la Lazio è corsa a ripari. Mi chiedo, c'è la talent room? Veramente non si poteva trovare nessuno più forte di Gigo? Questo è quello che ci dicono i dati. La Lazio ha preso Gigo, 31 anni, fuori rosa dal Marsiglia, speriamo ovviamente che faccia bene la Lazio. Si parla di un giocatore fisicamente molto forte, molto bravo di testa, un guerriero così viene definito, un po' meno attento nella marcatura, in realtà neanche Casale è stato perfetto nella marcatura per cui di questo dovremmo essere abituati. Arriva Gigo, esce Casale. Casale pagherà un milione e mezzo per il calciatore con diritto di riscatto fissato a sei milioni e mezzo. Quindi se la Lazio dovesse vendere, se il Bologna dovesse riscattare Casale, la Lazio incasserebbe qualcosa come otto milioni di euro. Casale che era partito titolare nelle prime due partite Serie A della Lazio di quest'anno, in tutti e due non aveva fatto benissimo, nell'ultima è uscito, sembra un infortunio, ma insieme a Romagnoli è stato protagonista negativo nel primo gol dell'Udinese. Quindi la Lazio si fa un'operazione, volevo dire si rafforza dietro, ma non ne sono così convinto, entra Gigo, esce Casale. Speriamo che Fabiani ci abbia visto bene e che Gigo sia un upgrade rispetto a Casale. Secondo me adesso con l'addio di Casale la coppia titolare sarà Romagnoli-Patrick in attesa del recupero di Gila e Gigo arriva a fare la riserva, a contendersi il posto con Romagnoli e Patrick per tornare ad essere titolare. Voi che ne dite questa operazione? A me onestamente non fa impazzire, ma magari voi siete più contenti, iscrivetevi al commento qua sotto e noi ci ritroviamo domani mattina alle 8 con un nuovo video. Grazie a tutti.